Sei ancora qui? È casa mia È casa nostra? Tecnicamente è casa mia Non solo perché tua zia te l'ha lasciata Eh, mia zia mi voleva bene A me è un po' meno visto che le spese le sto pagando tutte io Eh certo, che sembra Cos'hai detto? Che il fegato per sopportarti ce lo metto io, quindi siamo pari